Lo amo tantissimo, ma lui no, proprio non mi vede nemmeno. Poi quando mi sono accorta che non ricambia il mio amore, mi sono arrabbiata perché è proprio uno sciocco. Ma poi ho capito, è colpa mia, non valgo abbastanza, non sono abbastanza bella per lui. È successo a tutti, non sei sola. In questo video parleremo della delusione che si prova quando un amore non è corrisposto, di tutte le emozioni dolorose che si provano quando c'è un rifiuto. Cominciamo subito. Innanzitutto cosa sta succedendo? La psicanalisi qui ci aiuta. L'amore non corrisposto è un lutto. Tu hai perso l'oggetto del tuo amore. Quindi hai bisogno di disinvestire tutte le emozioni, le passioni, le energie che avevi messo su questa persona e spostarle altrove. Questo richiede un periodo di lutto. Quindi quello che provi, tristezza, delusione, rabbia, frustrazione, è normale. Perché in un periodo di lutto si provano tante emozioni dolorose. C'è un rischio. Ed è che la tristezza prenda il sopravvento e diventi melanconia. O in termini moderni, depressione. Freud aveva scritto un saggio dal titolo Lutto e melanconia. In questo saggio, diceva appunto, occorre distinguere tra il normale lutto che può accadere quando c'è una perdita di un amore importante, di una persona cara, potrebbe essere anche una separazione, potrebbe essere un abbandono, o potrebbe essere, come capita nel caso di un amore non corrisposto, che l'altra persona non ricambi il tuo affetto. Quindi, se il lutto e tutte le emozioni che provi è normale, il rischio è quello della depressione. L'altro pensiero molto frequente, quando c'è una situazione di amore non corrisposto, è che una persona si senta in colpa. Se l'altro non corrisponde al mio amore, è colpa mia. Non sono abbastanza bella, non sono all'altezza di quella persona. Ecco, questo rivoltare su di sé la colpa per una situazione che oggettivamente non ha colpe. Semplicemente il tuo affetto non incontra risposta, ma non c'è una colpa. È una perdita, ma non è una colpa. Il rischio di pensare di non valere abbastanza mina molto l'autostima personale e rischia di rinforzare quella che prima chiamavo depressione, melanconia. Cioè i pensieri che abbassano il tono dell'umore sono appesantiti da questa colpa immaginaria. Il terzo rischio che la psicanalisi ci aiuta a individuare è la fissazione. Quando il pensiero della persona si incista, per così dire, si blocca a pensare sempre a quella cosa. Se questa fissazione esagera, blocca le tue azioni, i tuoi movimenti, il tuo benessere. Perché sei sempre lì a pensare solo a quello e evidentemente anche gli altri se ne accorgono perché appena hai modo di dire qualcosa ripeterai sempre questo tema. E dopo un po' le persone non sanno più cosa dirti, si stufano, si scocciano di questa tua fissazione. Guardate che i termini della psicanalisi come il termine fissazione non vanno immaginati chissà quanto complicati. È tutto nella parola stessa, come quando noi diciamo sei fissato. Veniamo ora alle indicazioni operative che si possono provare a dare per superare le difficoltà che si incontrano quando un amore non è corrisposto. Ti darò ora sei piccole indicazioni che derivano un po' come conseguenze da quello che ho appena detto. Prima indicazione. Ti dicevo che sei in lutto. La delusione che si prova, la tristezza che si prova, è un sentimento naturale. È normale che tu provi tutto questo. Quindi, prima cosa, una chiarezza di pensiero. Non stare a criticare come tu ti senti. Come ti senti è corretto. Va bene così. Perché quando si prova una delusione, il dolore può portare a queste emozioni. Ed è normale quello che tu stai vivendo. Ricordati solo che quando si vive un lutto, occorre del tempo per superare questo periodo. Quindi ci vorrà pazienza e tempo. Seconda indicazione. Per quanto tu sei tentato dal pensiero della colpa, sappi che non è colpa tua. Ricordatelo. E quindi devi forzarti un po' la mano su questo. Il senso di colpa che tu provi è un'altra cosa. Guardati il video sul senso di colpa. È un senso. Non è una colpa reale. Come già ti dicevo, il fatto che una persona ti rifiuti non è colpa tua. Non c'è nessuna colpa. C'è solo un senso che tu farai bene a contrastare. Terzo punto importante. Sii realista. Mi spiego subito. Non puoi controllare i sentimenti delle persone. Neanche di questa persona. Quindi non puoi sperare di riuscire a fare in modo che provi dei sentimenti amorosi verso di te se di fatto non li prova. Questa è la prima realtà. Ma il secondo realismo, molto più importante, è che un amore può essere non corrisposto. Anzi, è la forma forse più nobile dell'amore. Quello che tu stai facendo è un'esperienza evolutiva molto importante. Quando si ama, innanzitutto, si dà all'altro un qualche cosa senza aspettarsi niente in cambio. Quindi può accadere che l'altro non ricambi. Ma non per questo non è amore. Il tuo amore è un amore nobile. E questo non solo lo devi ricordare, ma ne devi essere completamente consapevole. La persona che ama innanzitutto prova un sentimento verso l'altra persona. Se poi accadrà che questa persona ricambia, sarà un di più, ma non puoi pretenderlo. Tu stai facendo un'esperienza che è preziosa perché stai crescendo nel conoscere le gradazioni dell'amore. Quindi è una ricchezza quello che stai vivendo oggi. dolorosa, faticosa, ma è una ricchezza. Stai imparando qualcosa di nuovo e di molto bello. Quarto punto importante. Non vivi solo tu questa esperienza. L'hanno vissuta quasi tutti. Quindi non stare da solo, da sola. Non isolarti dalle persone. Stai con i tuoi amici, stai con i tuoi parenti. parla, incontra, apriti. Parla della bellezza di questo tipo di amore. Non ci riuscirai subito, ma quando ci riuscirai, vedrai che sarà molto edificante per te. Ti sentirai più adulto, più adulta. Ma mi raccomando, non isolarti. Stai con le persone. non avrai voglia, ma tu forzati anche su questo. Perché altrimenti rischi un circolo vizioso, pericoloso. Se tu cominci a isolarti, la tristezza prende sopravvento. Se tu stai insieme alle persone, queste persone, in qualche modo, ti distrarranno, ti porteranno fuori dai tuoi pensieri soliti, dalle tue emozioni tristi. Ti costringeranno a provare altro. Quinto punto, non fissarti. Trova qualche modo per distrarti. La fissazione del pensiero è una malattia del pensiero. Quindi non fissarti sempre su quella persona, sui sentimenti che provi. Non stare a guardare sempre questa fatica, queste emozioni. Fai altro. Distraiti. Abbandona il telefono, innanzitutto. Usa la musica, usa il ballo, usa gli amici, usali. Ce li hai? Usali. Se non ce li hai, cercateli. Ma non stare a fissare il tuo pensiero sempre su quella cosa. Questo diventa patologico. Ricordatelo. Sesto punto, importantissimo. Ti ho detto che tu hai fatto un'esperienza amorosa, nobile, bellissima. Quindi, esercita il tuo amore su altre persone. Stai imparando a usare un amore gratuito, cioè senza corrispondenza, senza che l'altro ricambi. allora vai a fare volontariato, dedicati alle persone, dagli qualche cosa, perché tu hai un amore che è un ottimo modo di amare e devi in qualche modo esercitarlo. Ha un valore e non devi tenertelo nel cassetto. Reassumendo, non stai sbagliando nulla. Forse sta sbagliando quell'altro a non capirti, ma tu non stai sbagliando nulla. Va tutto bene così. Ti ho dato delle indicazioni anche operative. Ricordati che questi sentimenti che tu provi oggi sono normali. Guardati i video che ho fatto sul senso di colpa, sulla vergogna, sulla gelosia, su tutte le emozioni che tu provi. Forse troverai qualcosa sul mio canale che ti può essere utile. E se questo video ti è stato in qualche modo di aiuto, iscrivili al canale ed eventualmente scrivimi. Nel frattempo, pensaci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.